Scusi, mi potrebbe aprire le vetrine, per favore? Eh sì, guardi, scusi, gliel'apro subito, ci mancherete. Cosa voleva vedere? No, guardi, non ci siamo capiti, mi deve aprire tutte le vetrine, le dico tutto io. Ok, va bene, gliele apro. Ah, ora sì, allora mi dà una decina di vende, poi mi dà quattro polsiere e quattro cavigliere, mi dà anche quelle due corde, quei due set di corde da dieci metri, poi io correrebbero anche quei due kit, la gag ball me ne dà una decina al minimo, prenderei anche un'altarina dell'amore, quanto viene? Quattrocentocinquanta. E prendo anche quella. Va bene così? Voleva qualcos'altro? Intanto glieli porta la cassa. Sì, bravo, porti tutta la cassa perché devo prendere altre cose. Ok, bene, allora spende 2650 euro, paga in contanti o con la carta? Ma secondo lei me ne vado a fare acquisti con 2650 euro in contanti in tasca? È ovvio che pago con la carta. Prego, pago con l'American Express. Guardi, mi si velocizzi e mi chiami un taxi perché ho fretta.